E' sfuggita un tentativo di stupro gettandosi dalla finestra del terzo piano di un hotel. Protagonista della disavventura, una turista britannica in India, nella città di Agra. L'aggressore, proprietario dell'albergo che apparentemente l'aveva avvicinata proponendo un massaggio, è stato arrestato. Proprio ieri il Parlamento ha approvato una legge contro la violenza sessuale.